Con il nostro prodo pokemon noi in giro andiamo per la prova Non lo so non sono uniscente Io avrei parlato se me l'avessete chiesto Della solita recluta a mezza si chissate che c'è cosa di avere Non so non abbiamo obbligato e rapito il vostro capo Oh for man di sangue Ah me l'ho colata qua tra bene A dopo la notte Già Tu dici Plumeria E io te lo dico a 201 Anzi 200,01 è per sempre più di 200 Ah qualche pokemon Beh vi batterò tutti comunque Ve l'ho già detto 201 Cosa sono andati svenuti morti che non hanno fatto niente Oh sì che è un imbalizzante puoi dirlo forte E non ci siamo accorti che era lì? E smettere di camminare come degli scemi non direi Ok ecco che se ti non puoi avverti notte Notte cioè Già E tu sei gelosa? E' il mio signor Guzman E' il mio signor Guzman Sì grazie Sì grazie mi dicono tutti In tutte versioni Eh L'ultimo in due righe no Ok Ok tutto perdonato Amici come prima Grazie Grazie Oh se lì si va avverti notte Nel prossimo video Grazie.